Il liceo classico non costringe un ragazzo di 14 anni a compiere scelte premature e affrettate sul proprio futuro, perché offre una preparazione eccellente per qualsiasi scelta universitaria. Il suo percorso di studi è senza dubbio incentrato sulle discipline umanistiche che vengono affrontate in modo molto approfondito, ma non vengono trascurate nemmeno le discipline scientifiche. Anzi, in questo campo il liceo classico è in grado di trasmettere non una quantità di conoscenze analoga a quella di scuole di indirizzo scientifico, ma competenze altrettanto efficaci, grazie ad un metodo di studio che viene giorno per giorno affinato. Il punto di forza del liceo classico è costituito da due discipline, il greco e il latino, che possono sembrare esclusivamente umanistiche e invece non lo sono affatto. Da un lato certo offrono la possibilità di conoscere più da vicino le nostre radici culturali e acquisire particolari competenti sul piano espressivo. Dall'altro lato però si rivelano una straordinaria palestra per allenare la mente con procedure e metodologie di tipo prettamente scientifico. Il liceo classico ha la fama di essere una scuola molto impegnativa, lo è in effetti, ma è orgoglioso di questa fama che ne comprova la serietà. Dietro a grandi risultati del resto non può che esserci una forte dose di impegno. Per frequentare con successo un liceo classico non occorre essere dei geni, non occorre dire addio alla vita sociale. Sono ragazzi normalissimi che hanno fatto la scelta di investire risorse e impegno in vista di obiettivi molto importanti. Prima di tutto una formazione culturale solida e a tutto tondo, in secondo luogo un metodo di studio vincente per l'accesso all'università. La nostra scuola offre un'ampia gamma di attività di ampliamento dell'offerta formativa. Alcune sono in comune con tutto il polo liceale, altre invece sono specifiche di questo indirizzo e negli ultimi anni l'hanno connotato in maniera significativa, anzi hanno creato un clima di condivisione molto apprezzato dagli alunni. Alludo in primo luogo all'attività dei latini cantores. È un laboratorio che propone la trasposizione in musica e in canto di testi poetici della classicità. Alludo anche alla manifestazione annuale intitolata Notte nazionale del liceo classico. Tutti gli anni offre l'occasione per gli studenti di cimentarsi in una miriade di iniziative capaci di coinvolgere intere classi nella realizzazione di un evento davvero unico.